Domani, 27 gennaio, è il giorno della memoria. In tutto il mondo si ricorderanno i milioni di ebrei deportati e uccisi dalla barbaria nazifascista. Un momento di riflessione su quello che è accaduto e potrebbe riverificarsi. Ma non basta il ricordo silente. Occorre alzare la voce e gridare che mai più i popoli dovranno sopportare tacere. Purtroppo troppe parti del pianeta sono martoriate da conflitti scoppiati per la sombremazia degli uni o degli altri. Quanti lager ci sono ancora spassi in ogni angolo della terra e cosa grave è che i negazionisti nostalgici di regimi dittatoriali tornano in piazza senza timori, senza pudore alcuno, con le loro baracche e camera a gas. Sono vivi nel ricordo di quei sopravvissuti che ancora possono raccontare. Non solo domani, ma tutti i giorni. Fermiamoci per un attimo e chiniamo il capo per non cancellare la memoria dei tanti morti, non solo, con l'unica sola colpa, quella di essere di religione diversa. Ma le assurdità, la violenza è difficile da fermare. Ancora oggi non c'è rispetto neppure per i morti quando leggiamo notizie come quella che ha portato alla ribalta la laboriosa città di Biella, dove la magistratura ha aperto un'inchiesta sulle cremazioni, quelle che dovrebbero essere legali. Il dito accusatore dei magistrati è puntato su una ditta che di fronte al crescente richiesta di cremazioni ha profanato cadaveri restituendo ai parenti urne piene di sabbia, invece che le cenere, finite chissà dove. Ecco la vergogna che continua, che non lascia spazio, che alla rabbia è di una memoria sempre più flebile. Quello di Biella è un altro caso rispetto all'olocausto, alla Shoah, ma è pur sempre violenza nei confronti dei vivi e dei morti.